Matt, sei partito da zero, senza un metro quadro, non sapevi come fare un'azienda agricola, hai studiato, hai messo su un'azienda agricola, è il secondo anno di produzione dell'azienda agricola, ma l'azienda agricola guadagna, fa bilancio? Oggi ti racconto esattamente quanto ho fatturato nel 2023 e quanto credo fatturerò nel 2024. Ciao a tutti i farmer, spero tutto bene, sono Matt MyFarmer, nella vita faccio il contadino e da circa dieci anni ti racconto come sono partito da zero, da un orto in giardino e mi sono creato un'azienda agricola andando a produrre orticole per gli chef stellati, ma non solo, olio e vino, tutto questo senza soldi e il papi, perché il papi giustamente non c'aveva i terreni, non mi ha dato i soldi, ma mi sono creato io l'azienda agricola solo e oggi entriamo nel succo, nel succo della questione, quanti soldi ho fatto nel 2023, fatturato l'azienda agricola nel 2023 e l'azienda agricola nel 2024. Ti ho già fatto uno spoiler qualche video fa, ci mancano 20.000 euro da qua a fine l'anno per arrivare inutile. Il nostro piano è molto semplice, andare a piantare una serie di ortraggi, andarli a vendere naturalmente, quindi questo qua ci porterà più budget, ma soprattutto riuscire a vendere sempre di più il nostro vino che è in cantina. Ragazzi, siamo comunque in una zona Franciacortina che è vocata al vino, abbiamo fatto il vino in una delle cantine siccome migliori della Franciacorta, è ottimo il vino, sia rosso che bollicine e qua tocca a voi, dammi fiducia, ma ora, detto questo, oltre al mio vino che c'è qua sotto in descrizione e quindi può aiutarmi a raggiungere 20.000 euro, andiamo a vedere i calcoli. Il 2022 non lo prendiamo in considerazione perché l'azienda agricola è stata avviata più o meno verso maggio, quindi stiamo parlando di metà anno. Comunque ti do una cifra già del 2022 per farti comunque un'idea. Fatturato circa 22.000 euro, ma andiamo subito al 2023. Fatturato annuo 71.769 euro. La vendita degli ortaggi 2023 non è andata male, circa siamo sui 43.000 euro. Il vino è andato abbastanza bene, abbiamo venduto poche bottiglie per circa un 2.000 euro, dopo ci sono altre entrate. Quello che ha fatto una parte cicciona del nostro fatturato e va inserito nel fatturato è stato il PSR, il primo essediamento, che comunque sono stati 24.000 euro. Parlando delle uscite, ora te le racconto un po' a macro aree, andrebbero viste in chiave di bilancio, è un po' complesso il tutto. Più o meno di ortaggi siamo andati a spendere circa 6.000 euro, quindi vuol dire di piantine da andare appunto a installare nel nostro terreno. Ci sono stati costi di gestione molto più alti nei confronti della corrente, circa 2.000 euro. I vari affitti dei vari terreni che comunque abbiamo in gestione, circa per 1.800 euro, circa un 600 euro di gasolio. I corsi che abbiamo fatto in azienda tipo quello di fattoria didattica, 250 euro. Fate conto che su 71.000 euro di fatturato totale, 2.747,44 sono stati messi per la sicurezza, che è giustissimo farla, però è effettivamente una parte di bilancio bella corposa, giustamente perché l'azienda agricola è un settore dove purtroppo succedono a volte dei fatti non piacevoli, quindi la sicurezza per normativa, ma soprattutto per corsi, andava fatta. La banca mi è costato 257 euro, dovremmo migliorare banca, ecco. Associazioni varie di categoria sono andati quasi 3.500 euro, abbiamo acquistato vari materiali per 2.700 euro, cioè una voce con altro, quindi vuol dire varie spese veramente, che sono circa 8.000 euro, sono stati fatti dei lavori dagli elettricisti eccetera eccetera di 700 euro, fornitori generali quasi 10.000 euro, il comune per i cartelli varie cose si è preso 900 euro e poi tutti gli altri soldi, diciamo, che mancano, dove sono stati messi, sono stati messi sia per pagare gli stipendi ai dipendenti, sia per pagare i lavori che mi hanno fatto fare a conto terzi, quindi vedete, una parte comunque ciotta del nostro fatturato è andata appunto per le persone che hanno lavorato dentro l'azienda agricola. So che stiamo parlando di soldi, quindi diamo un'occhiata a 360 gradi anche come vanno i miei investimenti ed ho messo in parte i soldini che avevo di risparmio e in questo ringraziamo Moneyfarm che è lo sponsor di questo video e con cui sto facendo un percorso che ora vado a spiegarti meglio. Per chi non conoscesse Moneyfarm è un servizio di gestione patrimoniale che unisce la semplicità di una piattaforma digitale col supporto di esperti sempre disponibili. Da oltre 10 anni si impegna a rendere la finanza accessibile a tutti semplificando il mondo degli investimenti. Mi sono trovato molto bene con il loro servizio Liquidità Plus, uno strumento a basso rischio che mi ha permesso di incominciare a entrare piano piano nel mondo degli investimenti. Era la prima volta che investivo i miei soldi e volevo essere seguito molto attentamente, soprattutto volevo consigliare alla mia community solo un prodotto valido e che avevo verificato. Quindi ho deciso di investire altri soldi in qualcosina di più rischioso e questo è come sta andando. Non ve lo dovevo dire io diversificare è sempre la soluzione migliore, ma per farlo volevo affidarmi a persone veramente competenti. Sono andato a investire nella gestione patrimoniale in un portafoglio di livello 7, uno tra quelli con la componente azionale maggiore e quindi con fluttazioni più ampie. Però maggiore è il rischio, maggiori sono i potenziali rendimenti sul lungo termine. La cosa che mi interessa è investire nel lungo periodo e farlo con le persone che possono seguirmi, consigliarmi e calibrare il rischio dell'investimento al mio profilo e ai miei obiettivi. In questo Money Farm è la soluzione migliore. Naturalmente stiamo parlando di soldi e di risparmi, quindi dovete farlo in modo cosciente. Anzi, approfittate di Money Farm. Fatevi fare anche voi una consulenza. Vi lascio un link in descrizione col quale potrete aprire il vostro primo portafoglio in gestione patrimoniale e ricevo uno sconto sulle file di gestione annuali per i primi 6 mesi. Ma ora ritorniamo ai bilanci. Io so che questo video creerà un sacco di malumori, un sacco probabilmente di invidie, perché qualche d'uno mi critica che faccio agricoltura per gioco. Cosa vuol dire fare agricoltura per gioco? Che di solito sono figli di agricoltori che partono con un know-how veramente importante, magari anche familiare, di anni di coltivazione. Sono aziende agricole magari strutturate con già i terreni, con già i macchinari. Io sono partito da zero. Quando ho acquistato il podere, ve l'ho raccontato, non avevo né un soldo, ho dovuto fare un prestito personale, né avevo terreni, né avevo macchinari. E tutta la mia storia è servita per riuscire ad andare a strutturare l'azienda agricola che ha delle falle, di sicuro, perché a volte gioca con dell'inesperienza, a volte ha dei pro, che è il networking e avere così tanti amici agricoltori di altissimo livello, e ogni volta ve lo racconto questo con consulenza aperte, con una serie insomma di errori e no, che però possono essere interessanti per esattamente capire come non rifare quegli errori lì. Altra cosa molto importante, quando ho avviato l'azienda agricola nel 2022, sin da subito mi sono chiarito, mi sono dato come obiettivo, di lungo termine, rinvestire tutti i soldi che avrei fatto nell'azienda agricola, almeno per i primi 4-5 anni. Cosa vuol dire? Che il mio obiettivo non era avere dell'utile dall'azienda agricola per portarla in casa, ma andare a far sì che l'azienda agricola, prima di tutto, non fosse mai in perdita, quindi che non mi pesasse sulle spalle, e tutti i soldi che andavo a fare fossero messi nell'azienda agricola per provare a colmare quel gap che era quello dello strutturarsi. Quindi ti faccio degli esempi, i primi anni sono andato a creare tutta la recensione, andarla a strutturare, a fare tutti gli impianti idraulici, insomma, piccoli step che portavano l'azienda agricola a strutturarsi sempre più. L'obiettivo quindi, più o meno fra due anni, è quello di andare inutile con l'azienda agricola. Naturalmente, se vado inutile prima, meglio anche se ci sono una serie di progetti che vorrei fare, tipo andare a acquistare magari un immobile per andare a fare degustazioni, laboratorio di trasformazione, insomma, tante cose. Ritorniamo ai numeri. Andiamo a vedere ora, in questo istante, come è andato e come sta andando il 2024. Tenendo conto che, come hai visto nelle scorsi video, ti ho detto che mi mancano circa 20 mila euro per raggiungere il breakeven di fine anno. È un obiettivo che mi sono dato raggiungibile secondo i dati che abbiamo e poi spero anche che ci sia un pochino di fermento qua nella community, soprattutto sul vino. Quindi datemi fiducia sul vino. Qua sotto in iscrizione. Vediamo qualche dato. Partiamo dalle entrate. I ristoranti quest'anno sono andati bene. L'anno scorso non ne avevamo così tanto. Per ora stanno portando tra le vendite, tra vendita in campo, i ristoranti, eccetera, eccetera, abbiamo già fatto circa un 23 mila euro di fatturato di vendita di ortaggi. Siamo in linea rispetto all'anno scorso, dobbiamo incrementare un attimino di più, però non male. Abbiamo fatto gli eventi, che sono stati i corsi che abbiamo fatto in campo, circa hanno portato un 800 euro. L'e-commerce sta andando molto bene. In quattro mesi la vendita del vino è riuscita a darci molta linfa vitale e essenziale, perché abbiamo fatto per due anni gli investimenti, tenere il vino, produrlo. Ora lo stiamo ne dando in vendita con comunque degli ottimi risultati. Hanno fruttato circa 10 mila euro. Ci sono poi altre entrate varie. Quindi più o meno di fatturato. Oggi stiamo parlando di circa 35-36 mila euro. Non ho ancora fatto le somme. Andiamo però a vedere le uscite che abbiamo avuto sino a ora. In casoglio abbiamo speso un attimino di meno. Ora siamo sui 250 euro. La sicurezza abbiamo fatto tutti i corsi all'anno scorso, tutte le robe, quindi si è leggermente abbassata. Siamo sui 500 euro. La banca sino ora è costata 219 euro. Commercialista, vari eccetera eccetera. Siamo solo ora a 1.400 euro. Poi allora qua le voci sono un attimino tante. Fate conto che abbiamo animali, fornitori vari, insomma varie cose. Più o meno a costi in questo istante saremo sui 31 mila euro, perché mi accorgo che alcune voci non sono ancora state aggiornate. Come ti ho detto noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo di arrivare a parità di bilancio con 20 mila euro. Tu farei due conti e dici, perfetto, se ora hai fatto 36 mila euro più 20, stiamo parlando di circa 56 mila euro, che è molto di meno del fatturato dell'anno scorso. Tieni conto che dobbiamo ancora ricevere il PSR che non sappiamo se arriverà per fine anno o no. Quello decreterà qualche soldino in più per l'azienda agricola. Quest'anno di sicuro a livello articola non è andata così bene. Abbiamo avuto un tempo molto molto difficoltoso, ha portato un pochino meno di produzione, quindi un pochino meno di vendita. Di sicuro quest'anno abbiamo anche dei costi molto più contenuti, perché l'anno scorso abbiamo fatto molti più investimenti rispetto a quest'anno. L'obiettivo comunque non sarebbe male chiudere l'anno comunque sui 60 mila euro, non considerando il PSR. Naturalmente di tutto questo l'obiettivo è vederci tra un mese e vedere come sta procedendo il bilancio. Uscirà un video a breve, ne abbiamo già parlato in live insieme, sto vedendo di cercare un nuovo socio che entri magari a lungo termine in azienda agricola, che possa con me condividere questo percorso, un socio non che metta soldi ma che lavori in fianco a me. Detto questo è un'azienda agricola che di sicuro fattura poco, ma è un'azienda agricola che tutto sommato sta in piedi. E chiariamoci ancora di più, se fossi solo a lavorare in questo istante riuscirei a gestire tutta la brina, l'oliveto vigneto non lo so, però riuscirei a gestire tutta l'azienda agricola da solo con probabilmente un 9 ore al giorno, però ho fatto un calcolo e riuscirei a portare a casa probabilmente un 25 mila euro solo di stipendio all'anno, che comunque per uno che avvia un'attività del genere, vuole farlo, incomincia a prendere comunque terreni che sono di valore, incomincia a costruire, non sono per forza così male. Cosa importante da dire e precisare, io comunque sono in territorio che è un territorio dove ho clientela abbastanza vicino, cioè siamo molto vicini alla città, insomma è strategico, noi siamo proprio dispersi, quindi tutto sommato non sono male i bilanci. Chiaro poi per il 2024, per quello che vogliamo andare a fare, insomma manca ancora qualche piccolo step, c'è stata la fregatura del tempo quest'anno che ci ha tolto comunque una parte del bilancio che avevo pensato avere e effettivamente non c'è, perché il tempo non ci ha permesso di ottimizzare al meglio le energie. Però anche qua diversificare, quindi sbattersi così tanto per avere olio, vino, è stata una manna perché anche in un anno del genere posso riuscire a vendere il mio vino e anche lì riuscire a fare un vino di ottima qualità e non un vinello da utilizzare come strategia social per venderlo di più, sta dando i suoi frutti. Tante persone che comprano per la prima volta il vino mi danno fiducia e lo ricomprano. Perché? Perché è buono. E quindi anche quella è stata una ottima strategia. Quindi che cosa possiamo dire a conclusione di questo video? Di sicuro ci sono cose che ritornando indietro cambierei, le farei in modo migliore. Questi due anni però sono stati una palestra per crescere, per capire come fare anche l'imprenditore, per capire che cos'è almeno in parte il mondo dell'agricoltura e comunque per accogliere dei grossi successi, perché non è scontato, comunque concludere due anni in questo modo. Quest'anno c'è una grossa sfida che è quella nei quattro mesi che avanzano riuscire a fare comunque una cifra abbastanza alta, magari riusciremo a superarla, magari no. Stiamo mettendo in campo una serie di ortaggi che anche questi porteranno, io spero, una buona rendita. Dall'altra parte, fortuna mia è avere anche una comunione di come vuoi da coinvolgere anche nella insomma sussistenza di questa azienda agricola e di questo progetto. Quindi qua sotto in descrizione ribadisco, c'è il sito dove potete andare a acquistare il mio vino. Io spero che prenderete in considerazione di provare questo vino, perché merita tanto. Farmer, qua sotto ci sono le domande. Come vi ho detto, fra circa un mese verrà fatto un video aggiornamento dove vi dirò a che punto siamo dell'obiettivo di 20.000 euro. Ora, non aspettiamo un mese, cerchiamo sin da subito di bustare. Chi può venire a comprare qua la verdura? Siamo aperti il martedì e il venerdì, 8.30, 12.00, 15.30, 18.00. Sempre. Per chi è lontano e vuole comunque sostenere l'azienda agricola, c'è comunque il vino che si può andare a comprare. E quindi non mi resta che rimandarvi al prossimo video che uscirà domani o dopo domani? Domani? Non mi ricordo più. Iscrivetevi al canale, tra un mese vediamo l'aggiornamento, se stanno migliorando le robe oppure parlerò insieme di che strategia dovremmo mettere in azione. Qua sotto Farmer i commenti, per i vostri giudizi. È pericoloso? Sì, perché i giudizi fanno male, però noi abbiamo le spalle e l'arca, ma soprattutto perché so che mi volete bene. Ci vediamo un prossimo video, Farmer. Ciao a tutti! Ciao a tutti!